Quando un partito comincia a spaccarsi, al di là delle posizioni diverse, è il fallimento della gestione politica di un partito. Si vuole prendere atto di questo? Io dico, se una segreteria non riesce a gestire le diverse anime del partito, anche perché veniamo molti da storie diverse, cioè voglio dire c'è gente che viene dal PC e gente che viene dall'ADC, se uno non riesce a fare la sintesi, è chiaro che tu porti il partito a sfragelare. Se tu prendi il segretario opposizione, tu dovresti essere un segretario asettico, rispettoso di quelle che sono le realtà all'interno del partito e cercare di comporre dove è possibile. Ma se tu segretario invece fomenti la divisione, hai fallito il tuo mandato, ecco perché devi andare a casa. Ecco perché io dico che Gabriele Minosse è inadeguato alla segreteria di un grande partito come il PD in provincia di Teramo.